Musica Buonasera a tutti e benvenuti a Motorpad TV, l'appuntamento settimanale con il mondo dei motori. Il segmento dei SUV diventa sempre più importante, diventa sempre più centrale nell'offerta di una casa automobilistica e oggi andiamo a vedere come Mercedes sta affrontando questo argomento, soprattutto con una gamma quanto mai ampia e completa con tutte le tecnologie a disposizione. A raccontarci tutti questi dettagli, tutte queste informazioni è con me in studio Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia. Grazie Eugenio ad essere qua con noi intanto. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di tutto però, il mondo dei SUV come ho detto è sempre più importante, ma Mercedes aveva un po' intuito questa tendenza tantissimi anni fa, quando è nata la classe G e da lì è partito tutto per voi. Sì, era il 1979, era originariamente una commessa militare, quindi un veicolo militare, poi effettivamente questa commessa non si è concretizzata e in realtà c'è stata la decisione magnifica di farla diventare anche un veicolo per tutti, un veicolo civile e da allora è iniziata un'avventura che non ha assolutamente, non d'accenno di finire, tuttora viene prodotta per molti eserciti del mondo quindi anche i Marines hanno avuto una classe G specifica per loro, ma è diventata forse la Mercedes quella più desiderata, quella più snob, quella più bella, quella più lussuosa perché è un oggetto dal punto di vista tecnico inarrivabile. È un totalmente inarrivabile che va avanti la produzione, va avanti, si rinnova e come cambia? Perché non si ferma questa auto? Sì, esteticamente è sempre lei, però dal punto di vista tecnologico ha dentro tutto quello che oggi hanno le più moderne Mercedes e quindi ne fanno un'automobile che rispetto alle prime è sempre fortissima, sempre la fuoristrada dura e pura che riesce a fare cose incredibili col telaio separato, però oggi va ancora molto meglio su strada e quindi è molto molto gradita dagli utilizzatori normali. E ci sarà anche la versione elettrica perché non l'avete annunciata e anche questa sarà presente nella classe G. Con tecnologia pazzesca che non vi voglio anticipare. Benissimo, allora abbiamo visto qualche immagine di che cosa sarà in grado di fare, ma dopo questo salto dal passato al futuro andiamo sul presente. i SUV sono parte importante del listino e della gamma Mercedes e siete presenti in tutti i segmenti di mercato per, tra l'altro, fa parte il SUV di questa strategia di elettrificazione che Mercedes sta portando avanti. Sì, perché per Mercedes pensa che il 65% delle macchine che noi vendiamo in Italia sono dei SUV, agli europei, agli italiani piacciono tanto le SUV e le offriamo con tutte le tecnologie disponibili, quindi benzina, diesel, ibride, ibride plug-in e full electric. Quindi tutte le modalizzazioni fatte apposta per ciascuna tipologia di utilizzo. Ecco, tante tecnologie diverse, così, come uno sforzo importante proprio per offrire tutte queste motorizzazioni? Perché veramente una gamma motori quanto mai ampia, poi piano piano andremo a dettagliarla. No, è complicatissimo e molto oneroso, una volta era facile. Fai pochi chilometri di benzina, fai tanti chilometri di diesel, oggi bisogna comportarsi come i sarti in concessionaria per capire l'esigenza dei clienti. Tra l'altro anche l'elettrico fa parte della strategia dei SUV per Mercedes, perché anche i modelli con la lettera E sono tutti elettrici. Sì, ne abbiamo tanti e devo dire che qui è importante in qualche modo proprio capire e adattarsi diciamo alle esigenze del cliente, perché gli elettrici hanno una caratteristica, mentre il prezzo del carburante, del diesel o del benzina è più o meno lo stesso, un euro e otto, un euro e nove, su un kilowatt elettrico può costare da 0,11 fino a un euro e due. E quindi è importante effettivamente proprio adattare diciamo la macchina giusta, la scelta giusta, l'allestimento giusto, il punto di ricarica giusto per ogni persona. E avete pensato anche di mettere la sportività nei SUV, anche questo è un po' una particolare, cioè il SUV viene vissuto come auto da famiglia, come auto per il tempo libero e invece avete voluto anche cartellirizzarlo e qua avete messo in campo AMG. Eh sì, AMG oggi è un marchio di Mercedes di grande successo, pensate che ne abbiamo vendute l'anno scorso 4.400, che è un risultato straordinario, oggi AMG va dal quattro cilindri ultrapotente da 306 cavalli sulla classe A e arriva ai 680 cavalli ed oltre praticamente delle ultime varianti più potenti. Quindi c'è un AMG diciamo per tutti ed è diventata in qualche modo il simbolo della sportività per Mercedes. Eugenio, hai parlato che agli europei e agli italiani piacciono molto i SUV, piacciono tanto come tipologie di veicolo, piacciono molto come modo di guidare, un po' rialzati. E l'italiano cosa sceglie, cosa gli piace nella gamma Mercedes? Allora il SUV più venduto è sicuramente la GLA, quello d'ingresso che fa un numero molto importante, poi subito dopo quello c'è la GLC, quindi il SUV di livello superiore della classe C e poi la GLB, quella più squadrata e così via. L'elettrica, il SUV più elettrico è la variante elettrica della GLA, quindi le QA che vende con circa 1100 pezzi e quella è l'elettrica che vendiamo di più. Mi piace molto questa cosa, cioè avete per ogni versione dei SUV un equivalente versione elettrica. Questa flessibilità è così importante avere tutte queste disponibilità? Credo che anche a livello industriale sia fondamentale essere molto flessibili in questo momento. È complicatissimo ed è molto costoso, però oggi tu devi offrire tutte queste opportunità. L'elettrico non è per tutti, ma è per tanti e c'è bisogno effettivamente di comprendere le proprie esigenze per capire se si è già pronti per questo salto. E se lo si è e si approfittano di tutti quanti i vantaggi è una scelta molto conveniente. Veniamo al modello che abbiamo in studio, perché sicuramente merita molta attenzione e racchiude tanti argomenti. Abbiamo una classe G, anzi scusate, una GLE SUV 350DE, quindi l'ibrido diesel plug-in. Esatto, allora questa per farla capire a tutti è un ML, una classe M, oggi la chiamiamo GLE, ma quello è il concetto. E questa è la nostra GLE di maggior successo, quindi è un ibrido plug-in diesel. Questo significa che la puoi caricare se vuoi la notte con la spina e quando è completamente carica fai 100 km soltanto in elettrico. O viaggi in ibrido facendo dei consumi da ciclomotore. Il vantaggio del fatto che sia diesel, siamo gli unici a offrire le plug-in con il diesel, è che quando tu stai facendo un viaggio a Roma-Milano, hai esaurito la carica elettrica, hai un motore endotermico, ma in realtà che gestisce con grande nonchalance l'incremento di peso di 300 kg della parte elettrica. E quindi si comporta come se fosse una GLE normale in termini di prestazioni e consumi. Eugenio, notavo anche una cosa mentre guidavo questa macchina. La percorrenza in elettrico che ha quest'auto, una batteria molto importante che permette di fare tanti tanti chilometri a zero emissioni, con una ricarica. Sì, 100 km in elettrico è tanta roba, quindi questo vuol dire che durante la settimana, tu dal lunedì fino al venerdì, viaggi praticamente soltanto in elettrico, se hai il punto di ricarica a casa o se ce l'hai in ufficio, o altrimenti devi ricaricarla fuori. Ma il che ti dà un grande vantaggio anche dal punto di vista economico. E chi ha l'elettrico, chi ha la possibilità, deve mettere l'impianto fotovoltaico e l'accumulo a casa, perché quella è la perfezione, è l'accessorio perfetto per una macchina elettrica. Allora tutto diventa chiaro e tutto diventa conveniente. Diventa una circolarità di sistema che può portare a degli evidenti vantaggi e può portare anche a fare delle valutazioni diverse. Se parlo di GLE mi vengono in mente anche però la fascia alta dei SUV elettrici di Mercedes che sono a disposizione, in questo caso EQS ed EQE SUV. Allora che compito hanno? Perché qua andiamo veramente nella fascia più alta di Mercedes in questo momento. Beh, l'EQE SUV tra le elettriche è quella che preferisco, è quella che esteticamente mi piace di più. In qualche modo è l'alter ego della GLE, quindi con grande autonomia, qui parliamo di oltre 500 km di autonomia, con la possibilità di ricaricare a 170 kg, quindi con la ricarica veloce. Queste macchine in realtà vanno caricate, fanno tanta strada, vaggiano in autostrada e quindi devono essere ricaricate ad alta potenza. Questa macchina ricarica in 20 minuti 250 km, un quarto d'ora 250 km. Quindi queste macchine si usano e sono... il modo migliore per usarle è facendo biberonaggio. In pratica tu non fai la ricarica completa quando stai viaggiando, ma fai delle micro cariche. Ti fermi per un caffè o per un aperitivo o ti prendi un panino, quindi ti prendi un po' più di tempo, la prendi più alla leggera. Ma viaggi poi come vuoi, viaggi ai limiti approvati, 140 km orari, non stai attento al chilometraggio. E quindi questo ti consente effettivamente di viverla nel modo migliore. Abbiamo visto le due ammiraglie elettriche, ma il top del top della gamma Mercedes è affidato a Maybach. C'è un SUV anche come Maybach. Bellissimo! Cosa si può dire di Maybach? Beh, che rappresenta l'iperuranio, in qualche modo la parte, la propaggine più estrema del nostro russo. La GLS o l'EQS, la variante elettrica Maybach, hanno delle caratteristiche incredibili all'interno. Quindi sono dedicate non soltanto a chi le guida, ma anche a chi viaggia dietro. Perché i due posti posteriori, queste automobili diventano quattro posti. La GLS può essere una sette posti, ma diventa quattro nel caso di Maybach. Perché potete immaginarvi lo spazio dietro. È come avere un letto, un salotto, con la massima disponibilità di sistemi multimediali. È effettivamente un'esperienza meravigliosa viaggiare con queste auto. Bene, allora ringrazio Eugenio Blasetti di Mercedes-Benz Italia per averci fatto fare questo viaggio attraverso il mondo dei SUV. Avete visto quanti modelli sono e con quante tecnologie a disposizione. Ti aspetto a breve perché avremo degli altri argomenti da raccontare. Grazie ancora di essere stato con noi. Mentre per i telespettatori qualche minuto di pausa e torniamo dopo la pubblicità.